E chi è a destra, chi è a sinistra, è Sandro Scatenato oggi, Sandro Scatenato, Giovanni si sceglie la via più impervia, Giovanni fa seccare a Roberto, e chi è a sinistra. Aspetta, abbiamo trovato i molti, viviamoci dentro del palermo, e la donna mia ora, e compita come secondo l'in missiva,